ragazzo no dai non ci vuoi andare a caccia pronti pronti ma salve e benvenuti nella mia cambusa io sono maku e oggi finalmente guarderemo insieme dal Collector Edition di God of War dopo tanto tempo torna quel bravo ragazzo di Kratos più o meno ma non stiamo qui a pettinare noi cani e andiamo a vedere subito cosa ce ne la Collector la Collector mesi e mesi d'attesa ed eccola qua la Collector Edition di God of War con la nuova avventura del nostro Kratos la scatola si presenta bene fin da subito con discrete dimensioni e ottimi disegni subito dopo troviamo lo steelbook col gioco e due codici scaricabili dallo store che comprendono un set d'armatura, voto di morte, lo scudo guardiano dell'esilio e in digitale il primo numero di un fumetto su Kratos un artbook e un tema dinamico per PS4 la riproduzione della mappa di Midgard in tessuto una scatolina contenente due statuine scolpite dei due fratelli Uldra i quali ci aiuteranno a migliorare il nostro pipaggiamento durante l'avventura una litografia esclusiva e per ultimo ma non di importanza troviamo l'action figure di 23 cm di Kratos e Atreus che spatazzano allegramente degli sgherri e che dire, proprio una bella colletta piena di cose davvero una grande esclusiva di PlayStation assolutamente da avere e niente ricordatevi di iscrivervi al canale e se vi è piaciuto il video ti mette un pollice in su noi ci si vede come al solito al prossimo video grazie a tutti